12 mesi per una visita cardiologica al Sant'Elia a denunciare la vicenda della struttura ospedaliera nissena e il capogruppo della Lega Oscar Aiello. Facendomi portavoce di alcuni cittadini devo pubblicamente denunciare l'ennesimo caso di malasanità a Cattunzetta. Lo faccio pubblicamente ma l'ho già fatto nelle sedi istituzionali opportune. Una persona ha prenotato a marzo del 2022, tramite le CUP di via Malta, una visita cardiologica fissata inizialmente ad ottobre del 2022. Ebbene, ad ottobre, senza avvisare quella persona, la visita è stata spostata a maggio del 2023. Quindi prenotazione marzo 2022, visita programmata a maggio 2023 e non sappiamo se dopo 14 mesi quella visita si potrà effettuare. È una vergogna, è un caso di malsanità, spero che non accada più e coinvolgerò le istituzioni competenti. Proprio sul fatto abbiamo contattato i vertici ASP per una replica ma al momento non abbiamo ancora ricevuto risposta.